musica 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 poi c'è un altro guarda più fai di me perché fai fuori a prendere ore d'ore e un angio c'è finito da potere quanto? guarda cavolo va a dare 1800 euro ora ma chi va allora tu? eh un fattore invece l'ha posto ma siamo raga, siamo qua giusto a scherzo e c'è una volta incagnata vai allora tu da fare che? sposti in mano tu sai che vado se non ne vado a posto e ciao ma dove c'è? eh dai guarda 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 buonissimo non può fare perché deve essere io sento un capoteca tu sai qui sono andato a casa mi fai una cosa ma chiamano a tutti noi mi ha detto io dovevo e darsi usci guarda la via a tua fonte è tranquillo i i i i i i i i i c'è un po' qui è questa gente com'è un po' la ricerca per non parlare, vai dire che incontro non si calma, non si calma, non si calma non si calma c'è il cavolo dell'arattia c'è il cavolo dell'arattia c'è il cavolo dell'arattia c'è il cavolo dell'arattia tu capisci? qui stanno camminando l'azienda c'è il cavolo dell'arattia c'è il cavolo dell'arattia un chate la pia di oggi che tu tiene qui nella l'arattia la superpa emerged c'è il braccio 20 anni t'è quando c'è Victo ci sono altre forgate pure che stanno emergendo emergendo? d'accord queste ne so è già chiamiamo che stiamo reg别vi in esperanza un po' sozzone ciò, un po' di pittare i pesci c'è un pregno non c'è un po' pure mella non potiamo prendere, mamma, la pesce non ha pittare i pesci ma quando ho cercato questo non so far bene io ho chi sarà basante la pannese non c'è nessun pezzo